Ma io sono qui semplicemente per dirvi grazie e voglio mettere in evidenza come qui a Vicenza e come qui in altre province venete voi abbiate dimostrato che non è vero che state ad aspettare l'aiuto dello Stato. Non chiedete ma fate, fate e... Le parole di riconoscenza ai Vicentini espresse da Giorgio Napolitano, da poco scomparso all'età di 98 anni quando, poco dopo la drammatica alluvione del 2010, venne in visita ufficiale in città in qualità di capo dello Stato in segno di rispetto e riconoscenza. Al suo fianco l'accompagnò l'allora sindaco Achille Variati che ricorda bene quei momenti. Vicenza era stata colpita da un alluvione assieme a Caldonio e ad altri territori del Vicentino e lui venne per ringraziare i volontari, giovani e non giovani, e si mise la pettorina come un giovane per dimostrare la vicinanza dello Stato e delle istituzioni in un momento di dolore. In seguito alla scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica, tutti gli edifici pubblici veneti esporranno le bandiere a mezz'asta fino a martedì, giorno della celebrazione del funerale di Stato e giorno di lutto nazionale. Ad esprimere ufficialmente il cordoglio a nome della città anche il sindaco Giacomo Possamai. Anche lui ricorda l'abbraccio e l'incoraggiamento ai giovani nei momenti terribili del 2010. Napolitano lascia un vuoto e mi ha sempre colpito l'uomo che ha lottato nei momenti duri e nei momenti gioiosi della vita del Paese per la democrazia e per la libertà. Uno statista, uno che non ha mai anteposto i diritti e le aspettative di un partito rispetto ai grandi diritti e alle aspettative del Paese.